Il ragazzo di 23 anni, ritratto in questa foto, è il terzo kamikaze che si è fatto esplodere durante il concerto degli Eagles of Death Metal al Bataclan di Parigi, uccidendo insieme ai suoi complici 90 persone. Si chiamava Fouad Mohamed Dagad ed è stato identificato a più di tre settimane dagli attentati terroristici nella capitale francese, grazie alle perizie tecniche, all'esame del DNA e alle testimonianze di chi lo conosceva. Originario di Strasburgo, era partito per la Siria nel 2013 insieme al fratello e ad altri otto giovani, ma a differenza dei suoi compagni non era mai più rientrato in Europa. Gli altri due kamikaze che si erano fatti esplodere erano già stati identificati Ismael Omar Mostefai, francese di 29 anni, e Sami Amimur, francese di 28 anni.